Noi non siamo che una piccola cellula di quel corpo, piuttosto anche importante, che è l'Avis Nazionale. La nostra associazione è nata localmente nel 1965. Gli scopi sono quelli di venire incontro alle crescenti esigenze di sangue. Io sono venuta per fare la prima donazione. Ogni volta come prassi il donatore deve compilare il questionario, questo per garantire la sicurezza già nella fase di selezione. Successivamente ogni donatore viene sottoposto a visita medica, vengono effettuati ogni volta sul sangue donato degli accertamenti di carattere laboratoristico. Il donatore, inoltre, viene sottoposto annualmente a degli esami di carattere sierologico che accertano lo Stato generale di salute. Nel nostro caso il donatore non ha particolari condizioni che ne pregiudicano l'inidoneità alla donazione. Quindi all'Avis aderiscono tutti quelli che vogliono dare, perché gratuitamente, il proprio sangue. Questi, una volta che è stata rilevata, riscontrata la loro idoneità, diventano donatori attivi. Il sangue va donato gratuitamente e va donato a tutti senza alcuna discriminazione. Donare è un atto di solidarietà. La cosa veramente fondamentale è che ciascuno di noi capisca quanto è importante aiutare il prossimo. Sono un'infermiere professionale. Dopo la mia messa a riposo mi sono avvicinata al centro di volontariato Avis. Ho iniziato a fare la volontaria per rendermi utile, per rimanere in un contatto con la gente. Il rapporto con volontari è da dire ottimo. Ci mettono a nostro agio, ci fanno ascoltare musica e alla fine di ogni donazione ci accolgono nella sala ristoro in cui ci vissano. Grazie anche alla sensibilizzazione nelle scuole, nei centri sportivi abbiamo avuto un aumento di donatori giovani. Ho iniziato a donare sangue perché mi sembra un dovere poter aiutare il prossimo. Potremmo essere noi ad avere veramente bisogno. Quindi con questo appello io chiedo a tutte le persone di affrontare le proprie paure perché lo scopo è quello di aiutare il prossimo e sentirsi bene con se stessi. Grazie a tutti.